era una di quelle giornate di dicembre in cui si direbbe che si solennizzi il vero ingresso trionfale definitivo dell'inverno con un immenso parato di neve chi si era adesso avanti giorno aveva sentito battere sordamente le ore dalla vicina torre quasi la campana fosse coperta ad un panno o il batacchio rivestito di ovatta chi è solito ad aspettare il giorno fra le coltri ne aveva visto la luce di stendersi sulle pareti con insolita bianchezza che aveva messo il muso fuori l'aveva ritirato esclamando bah che bella farinata chi finalmente quella mattina si fosse pigliato l'eroico divertimento di salire sul duomo avrebbe veduti i tetti le strade le mura le campagne al di fuori l'immenso piano i colli le prealpi le alpi se erano visibili tratto d'un sol colore dico se erano visibili poiché quando io mi affacciai alla finestra la veniva giù ancora a larghe falde che le parevano cialdoni o agnellotti questa prima solennità invernale ha sempre un non so che di gaio qualche cosa almeno di nuovo di stuzzicante di poetico principalmente in città a rispetto di tante brutte cose di cui per molti è purtroppo foriera non sempre ogni anno né con la stessa pompa la si celebra da noi talvolta la cosiddetta estate di san martino si prolunga talmente che la neve non viene se non quando l'inverno è già molto innalzi spesso è molle o ci arriva con la pioggia per darci lo spettacolo di un uggioso pantano universale altre volte poi la neve è piuttosto un saluto dell'inverno che parte o anche la si passa liscia così che un forestiero andrebbe poi a dire a casa sua che a milano non nevica mai ma quando quella solennità si celebra come vi ho detto o l'è bella l'è deliziosa affacciandovi alla finestra voi vedete o almeno la prosastica pala del municipio non proviene il giorno non previene il giorno vedete il suolo tutto istoriato tutto coperto di orme che vanno sempre più scomparendo sotto nuovi strati di neve i quali sono immediatamente stampati di nuove impronte o se potessero conservarsi quegli strati quante cose ci direbbero quante cose infatti si possono leggere su quelle pedate d'uomini di donne di bambini alternate in serie a zig zag sopra altre tante linee che corrono parallele o si scontrano si incrociano si scostano si ravvicinano come i pensieri che guidarono i passi di quella gente mattiniera è una vera pagina geologica come quelle di pietra sulle quali leggiamo nelle impronte fossili degli uccelli dei rettili e fin delle piogge gli avvenimenti di un giorno che splendeva mille anni or sono gli alberi sono carichi di candido fogliame e di fiori cristallini i tetti sembrano coperti di uno strato di soffice bambaggia i fumaioli mezzo sepolti soffiano come altrettante bocche da una gran barba bianca i nostri uomini grandi viventi nei marmi scolpiti o nei bronzi fusi coperti di grotteschi abbigliamenti fan tali visacci da muovere a invidia la befana il passero pigola tra le fronde dun sempreverde o fa capolino dalla volta ad un tegolo rannicchiato il sudo come un riccio poveri passeri li vedete fatti dalla necessità doppiamente domestici spiccarsi tratto tratto da comignoli venire a stormi dalla campagna tutta coperta svolazzarvi tra le gambe cercando qualche cosa da beccare ove sia vi appena uno spazio scoperto anche a rischio di incappare nei lacciuoli che i monelli non lasciano di tendere approfittando della miseria che rende quei tapini necessariamente incauti e fiduciosi vedete intanto quella pietosa bambina che sbriciola agli affamati uccelletti il panino della sua colazione tanto che sempre e in ogni luogo in questo mondo così brutto e così bello va chi si assottiglia per sollevare l'altrui povertà e chi dell'altrui miseria ingrassa i bambini che vanno alla scuola escono freddolosi interizziti i più piccoli portati in braccio da robusti chironi i più grandi raccolti a due a tre sotto certi ombrelloni che paiono camminare da sé radendo terra degli uomini chi corre quasi volesse schivare la neve sgusciando tra falda e falda chi tira via tranquillo e non curante lasciandola cadere come si suol dire alla moda degli antichi romani in genere peraltro tutti hanno una gran smania di correre tutti sono più affaccendati del solito e tirano diritto intabarrati incappottati incappucciati inciarpati senza salutare senza guardare anche a rischio di scontri e di eclissi fra muso e muso non così quel vispo ragazzino che si diverte a scavalcare d'un salto l'uno dopo l'altro i mucchi di neve allineati dagli scopatori sui due lati della via quell'altro è un celebre fabbricatore di pallottole e ne fa bersaglio se così gli talenta il dorso di qualche malcapitato passeggero eserciti di contadini vengono dalla campagna a spalare la neve cittadina lieti che essa prepari loro una grassa giornata in una stagione in cui sogliono farsi così magre le giornate per loro i carri i cavalli sono coperti di neve i condottieri biancheggiano anzitempo canuti o per la neve che li ricopre o per una bella fioritura di brina che si va sviluppando sulle barbe sui capelli come una crittogama crittogama e la viene e la viene giù giù che ad ogni istante è pare che si rifaccia da capo e guardando su in alto tu vedi un bel pezzo prima quella che arriverà un bel pezzo dopo un visibilio di piume svolazzanti indi di più fitta peluria quasi il cielo si spennacchi tu ad occhi quella falda più maiuscola delle altre soffice piumosa che discende grave grave lentamente rotando intorno a se stessa e lasciando che mille altre la sorpassino più veloci e più turbinose eccola si piega bruscamente risospinta da una folata di vento aleggia come bianca farfalla e torna a discendere giù giù e presso terra ma no e la sosta oscilla sospesa a dritta e a sinistra incerta schifiltosa quasi cerchi di schivare il sudicio ma eccola finalmente che si posa e scompare dileguandosi dell'universale candore lasciandoti libero di risalire con lo sguardo ad adocchiare un'altra falda da accompagnarla al suo destino e di startene così se ti aggrada dei buoni quarti d'ora seriamente occupato a contemplare la neve oh com'è bello grida quel fanciullino guardando attraverso gli umidi cristalli d'un salotto dove soffia ben nutrita una stufa oh com'è bello esclama quella signorina che si diverte a guardare seduta sopra una morbida sedia davanti a un tavolino elegante posando i piedini delicati sopra lo scaldapiedi di lucido ottone ripieno d'acqua bollente intanto passa un povero pezzente i cui abiti logori non conoscono stagione tutto raggricchiato a mo' di testugine o di porco spino quasi volesse sottrarre al freddo esterno quanto più può della superficie di se stesso intanto passa la vecchierella che si raccoglie al seno lo scialle scolorito e ragnato studiando angosciosamente ogni passo per tema di sdrucciolare io mi ero rimasto tutto il giorno incantucciato affacciandomi di tanto in tanto alla finestra per guardare la neve finché venuta la sera sentivo il bisogno di respirare un po' d'aria me vorrei d'altronde d'essere aspettato benché la venisse giù ancora alla distesa indossato il pastrano fasciatomi il collo con una sciarpa di lana e messomi il cappello in testa uscì di casa la neve scricchiolava sotto ai miei passi in sulla via e falde di neve venivano spesso a riposarmisi per un istante sul naso unica parte la quale essendo prominente spuntava come un bottone vermiglio fuori della buccia per di sotto l'ala del cappello e per di sopra alla sciarpa giunto all'usato convegno dovetti scuotermi la neve d'adosso fra le allegre risate degli intervenuti ciascuno dei quali aveva fatto la sua volta la sua volta lo stesso tutta gente si intende che non hanno carrozza ora sì salto su a dire mamma rosa dovrebbe essere bello trovarsi lassù con questo fresco in mezzo a quelle montagne in faccia a quel ghiacciaio state certi risposi che per godere di questi spettacoli non fa bisogno di trovarsi lassù né in dicembre né in gennaio se vi accadrà di trovarvi sulle alpi anche nel cuore dell'estate non sarà difficile che vi sia concesso di assaggiare il freddo e la neve come qui nel cuore dell'inverno mi ricordo d'essermi trovato il giorno 15 agosto sul gioco dello stelvio e la neve cadeva così fitta come stasera del resto se volete che io continui la narrazione interrotta l'altra sera non avrò a parlarvi che di freddo e di neve sì sì gridarono i ragazzi continua continua e dove siamo rimasti dormivi in quella capanna là in quel cassone rispose giannina dormivi cioè basta se dormivo il muoversi dei montanari mi svegliò assai presto la mattina è molto precoce in montagna il montanaro si sveglia quando il cittadino si addormenta parlo soltanto di quella classe di cittadini che ha il privilegio di nulla fare e di tutto godere salvo della soddisfazione di sentirsi uomo e utile agli uomini l'alba attesa sopra un poggio ruggiadoso all'ospirare della brezza mattutina all'impallidire delle stelle ha dei segreti portentosi per l'igiene del corpo e dell'anima ma noi non fummo sì fortunati da vedere le sue rose sparse sugli eterni candori delle vette nevose il cielo era ancora torbido l'aria umida e fredda una brutta mattina che ne dite di questo tempo dove andammo al più vecchio dei nostri ospiti possiamo avventurarci al passaggio dello zebru gli alpigiani come i marinai e come tutta la gente che è di continuo alle prese con i venti e con le tempeste posseggono da lunghi secoli non dirò già i portentosi segreti del pescatore di chiaravalle ma i rudimenti di una vera scienza che se non formerà la gloria del decimo nono lo sarà certo del ventesimo secolo il montanaro strinse le labbra e girò lo sguardo da prima verso oriente apparivano di quei chiarori menzogneri di quelle radure tra il nuvolo e il sereno che ingannano i malpratici lo fissò poi tra occidente e mezzodì dove si disegnava dall'andamento delle catene dei monti lo sfondo della valtellina quasi un sipario tutto bigio in fondo alle scene il cielo stagnava con nero ingombro di nubi cattivo sogno tuttavia siccome una cosa spiacevole si predice malvolentieri il montanaro accorciando il collo e ritirando la testa quasi per metà entro le spalle contratte ci disse ma pare forse più tardi quando sei in ballo bisogna ballare e noi non avemmo il coraggio di dare una mentita a un proverbio che traduce tante volte così bene l'inesorabile fato degli antichi come face le corna la minaccia del resto il proposto il proposto di valfurva non era uomo da darla vinta così presto nel congetarci dai nostri ospiti ebbe luogo un aneddoto che merita da essere raccontato perché assai caratteristico fra gli utensili di casa che tutti sarebbero altrettante maraviglie all'occhio del cittadino avevamo avevano a sé attirato in particolare la nostra attenzione i cucchiai erano naturalmente di legno ma perfettamente rotondi e coperti di una vernice certamente d'ottima qualità se resisteva alla temperatura dell'acqua bollente adorni di fiori dipintivi a vivacissimi colori sul fondo costituivano un vero capolavoro tanto che uno dei miei compagni se ne invaghi ne volle ne volle partire senza recare solo un seco un saggio così singolare dell'arte alpina per farne pompa in città chiesta né licenza agli ospiti scelse il più bello e siccome il prezzo venne rimesso all'arbitro dell'acquirente il contratto fu presto stipulato e il cucchiaio come roba di buon acquisto già passava dalla credenza del montanaro nel sacco del viaggiatore ma oibò nessuno aveva badato al pacchierotto che la sera precedente teneva d'occhio la pentola e lì al contrario aveva pigliato il più grande interesse al contratto non uscendo dalla sua ordinaria impassibilità finché non fu designata la vittima ma quando la mano inesorabile cadde sul cucchiaio colpevole d'essere il più bello la rubiconda faccia del montanarino si fe doppiamente rossa gonfiossi corrugandosi al tempo stesso per contrazione spasmodica e ne uscì tale uno scoppio di pianto da cavarti le viscere che c'è che c'è noi non sapevamo raccapezzarci strappare un motto al bambino era cosa impossibile ma bello comprese la mamma la quale ci disse un po mortificata è il suo piangere per un cucchiaio di legno sclamarono i miei nipotini ridendo sgangheratamente voi ridete miei cari e in vero non seppi io pure trattenermi da ridere in quel curioso incidente ma riflettendo dissi tra me ecco come il valore delle cose materiali è tutto relativo il povero bimbo riponeva nel suo cucchiaio di legno quell'affetto e vi trovava quella soddisfazione che tanti bambini cercano a fatica nei costosi balocchi e nei dorati astucci tanti uomini nei ciocchi sfarzosi nei cocchi sfarzosi nelle splendide ville e tante donne nelle fuggile collane e nei certi gemmati accrescete il numero e il valore degli oggetti posseduti ed avrete forse aumentata la cupidigia non la soddisfazione un cucchiaio di legno rispetto alla felicità val quindi tanto quanto tutti i tesori della terra la felicità non cresce dunque in proporzione dell'avere il sapere e la virtù non le materiali sono le vere fonti della felicità e questa naturalmente tanto più aumenta quanto quelle che sgorgano più copiose nel pianto di quel bambino c'era poi anche un sentimento di giustizia per lo meno quello del diritto sentimento in lui molto soggettivo cioè se volete un po egoista ma infine rispettabile che cos'era codesto mercanteggiare la roba sua senza il suo assenso ma infine glielo restituiste il famoso cucchiaio chiese chiarina curiosa dell'esito del dramma e un po' annoiata della predica infine risposi io per la ragione stessa che le cose in questo mondo hanno un valore relativo una bella moneta fatta gli luccicare sul viso cambiò naturalmente jean kipler o jean ki rit tempo buzzo in ciel sereno e tutto si accomodò con piena soddisfazione delle parti ma accingiamoci al gran viaggio ci infilammo l'un dietro l'altro sopra un sentiero che saliva dolcemente secondando la curva della catena che ci separava dalla valle dello zebru non si era fatto peraltro mezz'ora di strada che minuti pulviscoli di neve cominciavano a cadere oh non è nulla e è la bruma alpina succede sovente così anche quando fa bello io peraltro a dir vero non la pensavo a quel modo anzitutto quale diletto vi era nel viaggiare tra vette nascoste nelle nubi in una valle nebbiosa tra la morta natura e poi era egli prudente con un tempo così minaccioso l'avventurarci senza guida per un passaggio alpino asserragliato dai ignoti ghiacciai ma che volete gli uomini d'ordinario preferiscono ad essere costretti dalla forza piuttosto che divenire condotti dalla ragione a rinunciare ai loro progetti d'altronde l'amor proprio ci teneva lo zampino e qui devo la mia scusa avvertirvi per mia scusa come anche l'anno precedente io avessi tentato quel passo con parte della stessa comitiva e con altri compagni anche allora il tempo era piovoso e in vano sarà cercato una guida il passo dello zebru è ben poca cosa se si confronta con le salite al monte bianco al monte rosa e via discorrendo tuttavia se la cima del monte bianco è a 4812 metri su livello del mare quella del monte cristallo che torreggia sullo zebru è a 4402 e i famosi passi del grimsel della furca eccetera non hanno che 2176 metri il primo e 2411 il secondo mentre il passo dello zebru non mai sgombro di nevi parmi non possa vantare meno di 3000 metri qualche centinaio più del passo dello sterbio che ne ha 2815 del resto il numero e la perizia delle guide svizzere così bene organizzate ed esercitate hanno contribuito assai a rendere agevole e sicuro ai viaggiatori l'esito di quelle pur sempre ardite imprese qui invece il viaggiatore almeno allora si trovava solo abbandonato a se stesso e la maggior facilità dell'impresa non è sempre un compenso proporzionato al suo isolamento e alla imperizia dei luoghi una imprudenza può essere troppo severamente punita la catastrofe del cervino non era ancora successa ma appena l'anno precedente mentre due viaggiatori inglesi venuti dagli acciai della bernina discendevano soli verso i monti di poschiavo uno di essi precipitò miseramente in un burrone rimanendo sospeso tra due massi orribilmente malconcio io mi trovavo appunto colà e quando ne partì si nutriva ancora poca speranza di salvarlo non so che ne avvenne ma certo la fu una lezione di prudenza pagata troppo cara tuttavia nella nostra gita allo zebru dell'anno precedente avevamo già raggiunta la vetta ma un piano di neve ghiacciata tutto unito con un pendio assai ripido si distendeva sotto i nostri piedi uno della comitiva che per la prima volta si trovava in vetta ad un ghiacciaio non seppe vincere la ripugnanza a cimentarsi su quel piano inclinato sembrandogli che ad ogni piesso spinto dovesse sdrucciolare in fondo all'abisso quando pure la ragione avesse voluto ripigliare il suo impero le gambe in preda a un tremito convulso rifiutavano il loro servizio in queste occasioni la vittoria è del più debole e si preferì di rinunciare per allora al passaggio incanna ingannando la sconfitta con ritornare per altra via a bormio donde eravamo partiti il giorno innanzi uno peraltro della nostra comitiva non seppe punto adattarsi per rinunciare al palio quando era già si presso alla meta fu questi l'illustre nostro botanico sacerdote martino anzi il primo io credo ad eccezione di qualche pastore o cacciatore delle alpi che abbia passato lo zebru raggiungendoci a bormio a notte molto inoltrata per buona ventura il tempo si era tenuto tranquillo dovette peraltro confessarmi di aver avuto a lottare contro inattese difficoltà vedete dunque o miei cari come io avessi posso dire un'onta da lavare e perciò vi dicevo che l'amor proprio ci aveva la sua parte nello spingersi avanti l'anno successivo benché la giornata fosse tutt'altro che propizia avevamo camminato già forse due ore e i pulviscoli di neve anziché cessare si facevano più grossi e fitti e ormai erano fra loro d'accordo a formare una vera nevicata il sentiero si smarriva in una landa che formava il fondo della valle la quale saliva con lieve pendio fino ai lembi dei ghiacciai che discendono dal passo martello il quale mette in comunicazione la val furva con la val martello del tirolo la giocaia dello zebru ci stava ritta sulla sinistra perduta ogni traccia di sentiero bisogna pigliar di mira il punto dove si apre il passo e attendere a guadagnare terreno salendo come par meglio ma chi ha viaggiato alquanto sui monti sa che le nubi ne sfigurano singolarmente le vette sicché è facilissimo ingannarsi lo zebru inoltre veduto dalla val furva offre apparentemente diversi valichi nacque dunque tra i membri della comitiva una controversia su quello da scegliersi ciò doveva naturalmente sfiduciarsi un poco secondo l'avviso prevalente si sale si sale il valico appare ormai vicino restava solo da attraversare una dirotta frana quindi una vedretta cioè un pendio coperto di ghiacci ma non grande abbastanza per meritare il nome di acciaio si imprende dunque a salire per la frana era essa composta di un indigesto sfasciume di massi di ogni forma e di ogni dimensione angolosi acuti malfermi che rendevano assai malagevole il cammino a grande stento siamo giunti all'embo della vedretta ma il proposito che come sempre ci precedeva grida che impossibile l'attraversata colà poiché diceva egli il pendio troppo scosceso e il sottile strato di neve fresca che copriva il ghiacciaio compatto e liscio come il vetro rendeva quel passo troppo malfido mentre parlava appoggiò la sua orazione con un tremendo rovescione a capo indietro argomento di fatto troppo convincente ma che io voglio ribadire con un altro sdrucciolone per mio conto senza aspettare nemmeno la perorazione che fare discendere di filati seguendo il ripidissimo pendio per quella stessa frana per la quale eravamo saliti lentamente seguendo una linea trasversale ma se il salire era stato malagevole il discendere era un eculeo tormentoso e non scevro di pericolo ora un largo masso ci si frapponeva e bisognava sdrucciolar giù abbandonandosi sul dorso ora uno spigolo acuto minacciava di forarsi un piede o di lacerarci una tibia tutto in quel punto sembrò congiurare contro di noi levossi un vento furioso la neve granulosa fitta cacciata dal vento ci feriva in linea quasi perfettamente orizzontale una vera tormenta quella che forma il terrore delle alpi in un attimo la neve si appiccicava ai nostri abiti dalla parte opposta al nembo e li copriva quasi di una crosta di ghiaccio la mano irrigidita ma la pena stringeva il bastone il peggio poi era che la neve turbinosa aveva un istante coperta la frana in un istante incrostati massi occupati di intervalli sicché lo sdrucciolar che si faceva era continuo e veramente pericoloso mentre eravamo tutti impegnati in questa manovra di nuovo genere udiamo il rumore come di uno stramazzone solenne il nostro portatore che noi chiamavamo per abitudine nostra guida benché si tenesse d'ordinario alla retroguardia era caduto la destra gamba si era sprofondata in una buca mentre la sinistra era rimasta in aria la gerla ben approvvigionata rovesciatasi a guisa di corno d'abbondanza versava bottiglie pani pani cartocci che rotolavano giù per la frana si dovette accorrere a liberare il poveraccio che inforcando l'aria in positura così poco accademica le braccia imprigionate nelle cinghie della gerla non c'era modo che si potesse aiutare da sé quella scena tragicomica ci tolse ogni fiducia giunti a stento di nuovo sotto la vedretta dove presentava un pendio più accessibile sostammo a pigliar fiato e a fare un po di consiglio di guerra levando gli occhi alla vetta cui avremmo raggiunta in men di mezz'ora essa ci presentò prima non visto uno spettacolo terribile e sorprendente che rimarrà sempre vivo nella mia fantasia l'avresti detta in preda a un vasto incendio quasi ad un'eruzione vulcanica colonne di neve pulverulenta a guisa di nembi vorticosi di polvere o di fumo si si alzavano sperdendosi nell'aria con la rapidità delle balene e riproducendosi le mille volte con la stessa rapidità il vento benché pur con contraccolpo ci ferisse per contraccolpo da tutti i lati ma più sulla nostra destra cioè da oriente partiva visibilmente da un punto tra occidente e tramontana imboccava la stretta valle dello zebru sollevandosi sollevando le nevi farinose di cui sono rivestite le alture e le riversava a nembi nella valle dove eravamo noi era anche troppo per convincerci che sarebbe stata temerità di tentare un passaggio che ci gettava nel cuore del turbine in passi certamente difficili e per noi inesplorati fu quindi decisa la ritirata anche il nostro generale in capo dovette chinare la testa al consiglio di guerra a vederci mogi mogi volgere le spalle il luogo della fronte allo zebru che dietro rizzavasi in atteggiamento di terribile nemico la era una scena da ridere e da piangere insieme eppure da bravi soldati avevamo la coscienza d'aver fatto il nostro dovere ma è così facile fare il bravo fuori del tiro di cannone chi si sarebbe persuaso che noi avessimo ceduto soltanto a forza maggiore quelli che stavano giù tranquilli a centellarsi in panciolle le acque di santa caterina avrebbero eglino voluto eglino voluto non foss'altro che per ingannare la noia sacrificare un'occasione così bella di ridere alle nostre spalle anche di il più gran generale se tocca una sconfitta ha torto irremissibilmente bisognava rassegnarsi per forza beccandoci intanto anche un pochino tra noi come i capponi di renzo poiché in simili circostanze se nessuno ha il torto qualcuno deve averlo e se l'hanno tutti sono i due casi più ordinari uno deve averne di più tanto che se le cose vanno male una vittima la ci vuol sempre siccome nessuno si rassegna ad essere vittima degli altri tutti la divergono di ciascuno la divengono di ciascuno e ciascuno di tutti in pochi salti guadagnato il fondo della valle eccoci già fuori di combattimento la battaglia era tutta sulle alture mutoli ricalcammo con che cuore le nostre orme e giù giù in poche ore fino a santa caterina pronti come avevamo patito il danno a tollerare le beffe ma sia lode al vero trovammo i signori beventi assai discreti più che più che discreti i nostri amici erano anzi in pena per noi e furono lieti di rivederci dal piano di santa caterina guardando in su avevano potuto scorgere la lotta degli elementi sulle vette delle alpi e provarne anche l'effetto infatti il freddo ridesto all'improvviso anche laggiù le aveva già tutti rintanati nello stabilimento quando vi giungemmo la tempesta infuriava tuttavia sulle alture si vedeva ancora neri nuvoloni da cui staccavansi nembi di neve inseguirsi sulle alpi venendo da occidente nessuno pertanto durava fatica a prestar fede ai particolari della triste giornata a ragione e a torto era peraltro sempre una battaglia perduta la bandiera del geologo e dell'alpinista aveva piegato in faccia al nemico no non è non si dirà mai che noi non fummo capaci di passare lo zebru in ciò ci troviamo tutti d'accordo il passaggio va ritentato e quando domani assolutamente domani se il tempo è bello domani anzi la nostra narrativa invece di avvilire gli astanti accrebbe il numero dei campioni pronti a rinnovare all'indomani l'assalto si credette soltanto di modificare il piano in questo senso che invece di tentare gli approcci allo zebru dal lato d'oriente si dovesse spingerli dal lato d'occidente in luogo cioè di ascendere per la val furva e di scendere per la valle del zebru doveva sì per questa salire e di scendere per quella ciò per due motivi primo perché nel caso che il passo si mostrasse ancora impraticabile vi era sempre il vantaggio da avere esplorata la valle dello zebru secondo perché in qualunque modo avessimo potuto guadagnare la vetta eravamo già sicuri della discesa conoscendone assai bene la via come praticabile d'estate anche col tempo sfavorevole nuove allegrie nuovi approvvigionamenti quindi a letto lasciando al cielo la cura di rasserenarsi se così piaceva a colui che comanda sopra le nubi non spuntava ancora l'alba che la compagnia era già pronta il cielo s'andava rasserenando e alla pioggia era succeduto il vento la comitiva divenuta più numerosa era quindi più lieta per guadagnar tempo una specie di omnibus ci conduce a sant'antonio dove lo zebru mette foce nel frodolfo si ascende il pendio coperto di colti e di casolari e in poco odora siamo all'ingresso della valle la valle dello zebru è stretta selvaggia infossata tra due catene di montagne quella che la fiancheggia alla destra non è che un enorme scogliera una parete a picco di nude calcare su cui a malapena sabbarbica uno sterpo alla sinistra i monti sono un po più mossi più docili abbastanza ricchi di vegetazione ma in complesso la valle riesce poco pittoresca e assai monotona fino al fondo dove improvvisamente la salita si fa ripida e la scena cambia interamente la vi porto immediatamente al risparmio di noia la valle sempre angusta la sembra chiudersi chiudersi improvvisamente una rupe facendo da contraforte alle montagne sulla sinistra dove noi camminavamo si spinge fin quasi a toccare quella sulla destra o quelle sulla destra in guisa che il torrente è stretto in una in una attorno a quella prima rupe in una forra donde sbuca che è tutto una spuma fa dopo girare attorno a quella prima rupe quindi ad altre finché ci si apre allo sguardo un capace bacino quasi in forma di imbuto circondato da rupi inaccesse da vette biancheggianti di neve donde discendono i ghiacciai a imponenti frastagli che fan corona al bacino versandovi ciascuno quasi altrettanti otri un torrente nessuno di essi però arriva fino al fondo nemmeno il principale il primo che si incontra sulla sinistra esso peraltro scende si basso e ci si attraversa sulla via di tal peraltro di tal guisa che è necessario o slanciarsi d'un salto oltre il torrente che ne sbocca rigonfio dal più bel sole del pomeriggio o attraversare più in alto lo stesso ghiacciaio che offre una pendenza bastante per incutere qualche timore i più destri lanciarono il salto e furono di là altri ed io tra questi attraversammo il ghiacciaio scavalcando in seguito un certo numero di incomposte morene ci portammo sulla destra della valle a fatto sgombra di ghiaccio dove comincia l'aspra salita che doveva condurci alla vetta la quale ci stava già di fronte si camminava assai a disagio e sempre sopra cumuli incoerenti di macerie quasi sopra un piccolo caos di massi d'ogni dimensione ed ogni forma che al mio occhio rappresentava il sistema delle morene invernali qui naturalmente i miei soggetti a sensibili oscillazioni ora si avanzano guadagnando terreno ora si arrestano si arretrano o sembrano arretrarsi prescindendo dalle grandi oscillazioni per cui essi in epoche assai lontane da noi discesero dalle valli alpine colmarono i nostri laghi coprirono le nostre colline ed invasero fino una parte delle nostre pianure coperte allora dal mare per ritirarsi quindi entro i loro attuali recessi oh oh esclamarono in coro i nipotini in atto di assoluta incredulità citti miei cari mi dilungherei troppo quando volessi dimostrarvi quanto assedisco per ora credetelo a me che non voglio dirvi una bugia prescindendo dunque da quelle grandi oscillazioni a cui andarono soggetti ghiacciai in tempi preistorici ed altre meno considerevoli che ebbero luogo in tempi storici sensibili oscillazioni corrispondono invariabilmente alle stagioni d'inverno non essendovi di gelo ed essendo ben poco il ghiacciaio si ingrossa e quindi si avanza d'estate al contrario sotto la sferza del sole vigorosissima anche in seno alle alpi il ghiacciaio si impicciolisce e sembra come dissi ritirarsi i piccoli ghiacciai presentano assai più sensibili tali oscillazioni annuali godesti ghiacciai possono d'inverno accrescersi rapidamente di estensione ma avendo poca profondità ossia poca grossezza sono in breve tempo disciolti durante l'estate e quindi ridotti entro angusti confini io ritengo per esempio che i ghiacciai dello zebru debbano d'inverno discendere in modo da coprire interamente il fondo del descritto bacino lasciandovi nella loro ritirata estiva le morene che si avanzano con l'avanzarsi del ghiacciaio ma non possono con lui ritirarsi era su queste morene chiocchiamo invernali che noi camminavamo il salire si era fatto erto quanto mai si può dire la fatica improba davvero ogni due o tre passi bisognava soffermarsi a pigliar fiato quasi ci colpisse una sincope nelle altre regioni non è solo il lavoro dei muscoli che rende si faticoso il salire ritengo che la rarefazione dell'aria accelerando la respirazione aumentando quindi battiti del cuore producendo quello stato di parossismo di vertigine descritto da tutti i viaggiatori alpini raddoppi quel senso di pena e di sfinimento che si prova pur sempre quando si sale forse era meglio ripassare sulla sinistra e seguire la vedrette le vedrette che salivano fino al valico che dovevamo guadagnare né io sarei lungi dal consigliarlo a chi volesse ripetere la nostra corsa il pendio da quella parte è piuttosto ripido ma non così che presenti per mio avviso né vero pericolo né quelle difficoltà contro le quali noi dovemmo lottare tenendo la destra infatti non lungi dalla vetta ci trovammo di fronte ad una scogliera nuda inaccessibile che partendo dalle montagne di destra finiva al lembo d'una vedretta limitata in alto da altre rupi parimenti inaccessibili appariva soltanto ai limiti della scogliera verso il ghiacciaio una specie di vallone o piuttosto un canale donde franavano i ruderi d'una enorme morena dipendente dai ghiacciai della destra tra il canale e la vedretta della quale parlai sorgeva uno scoglio lungo acuto affoggia di lama dentata volgemmo immediatamente il passo verso il canale come ad un unico punto accessibile ma il primo che si provò a salirvi ci si rese accorti che era inutile o almeno pericoloso di ritentare la prova non si arrampicava due passi che non ne discendesse sdrucciolando altre tanti di più i massi che lo ingombravano trovandosi su quel ripido pendio della condizione del più mobile equilibrio franavano al basso col pericolo del salitore e peggio dei sottostanti che avessero tentato di seguirlo parve quindi migliore anzi unico partito attraversare la frana e seguire come meglio si poteva quella cuta lama di scoglio che fiancheggiava la vedretta qui un altro genere di difficoltà la fatica dell'aggrapparsi mani e piedi imposta dalla forma di quella rupe scoscesa e dentata si raddoppiò per la natura mineralogica della roccia di cui era composta costava di uno schitoso talcoso cioè di una roccia fogliettata composta in massima parte di talco minerale assai molle liscio lucente sdrucciolevole untuoso al attatto come fosse sapone infatti quella varietà di schisto è detto steatite dai mineralogisti stear in greco vuol dire lardo e in commercio pietra saponaria afferrarvi con una mano una scheggia sporgente ed essa si staccava ti appuntavi con un piede e ti sfuggiva come l'avessi posto sul ghiaccio infine fu un lavoro di mani e di piedi di ginocchia di petto un vero appiccicarsi corpo a corpo alla roccia quale non mi era toccato in mia vita giammai ecco dicevo tra me ecco il bell'imbroglio in che ci saremmo trovati ieri quando ci fossimo ostinati a discendere da questa dopo che avessimo raggiunta la vetta dall'opposta parte era egli possibile infatti con un vento impetuoso in mezzo a turbini di neve che tutti avrebbero ricoperto quegli scogli e quelle morene con tutta la facilità di perdere la tramontana era egli possibile ripeto di cavarcela senza danno forse serissimo credo che anche il proposito dividesse i miei pensieri e le mie convinzioni finalmente lo scoglio era superato ed eccoci sulla morena stessa che franava nel canale è un gigantesco cumulo di massi d'ogni forma d'ogni dimensione fra i quali spiccano abbondantissimi i pezzi di bianchissimo marmo saccaroide ma non c'è ora tempo a badarci s'attraversa la morena quindi una piccola vedretta poscia di nuovo uno scoglio assai meno difficile del primo ed eccoci davanti il sospirato valico che ci sovrasta di poche decine di metri non altro ce ne divideva che una porzione di pendio coperto di ghiaccio granuloso io lo riconobbi benissimo era il formidabile piano inclinato che l'anno precedente ci aveva intimato il ritorno ma esso aveva perduto ogni prestigio a petto delle difficoltà superate d'altronde salendo non era più quell'effetto ottico che produce un ripido pendio misurato dall'alto anzi non ci parve vero di poter una volta camminare ritti sulle piante e in fila serrata ricalcando le orme l'uno dell'altro per precauzione e salendo a larghi zig zag per diminuire la pendenza in pochi minuti eravamo sulla cresta nel punto dove comincia la discesa il vento che ci aveva disturbati nel salire e doveva essere più forte sulla vetta aveva invece dato luogo alla calma il sole splendeva verso il tramonto il cielo era di cristallo lo sguardo dominava le due valli spingendolo giù per quella d'onde eravamo saliti che appariva di lassù come una stretta gola andava man mano a posarsi sopra una serie di cime o negre o nevose di cui le ultime sfumavano nel lontano orizzonte in fondo all'opposta valle guardando a destra rivedevamo in tutta la sua ampiezza il ghiacciaio del forno e lo seguivamo con l'occhio fin là donde si dipartiva dai vasti campi di eterne nevi e dalle serene vette che lo avevano generato mentre guardando a sinistra vedevamo giù rovesciarsi dalle nevose cime quasi gonfia fiumana divisa in più rami e formante diverse cascate i ghiacciai del passo martello ma più di tutto meravigliose e meritevoli da se sole della fatica che costa il guadagnare lo zebru sono due gigantesche piramidi gemelle in cui si termina verso nord la scogliera sulla quale ci troviamo l'una è tutta coperta di neve l'altra quasi interamente nuda eppure quella nuda gareggia in bianchezza con l'altra vestita di neve e il credere facilmente quando vi dirò che sulla prima i bianchissimi calcari saccaroidi hanno sì grande sviluppo che essa può ben dirsi una montagna di marmo bianco non credete che sia postuma fantasia quando vi assicuro che lo svolgersi di quelle creste candidissime frastagliate come da tante aguglie vi ricordò vivamente il duomo di milano ritengo che all'effetto che produce alla vista quella marmorea piramide debba il suo nome il monte cristallo che distingue con termine generico tutta la catena la quale divide la valle dello zebru da quella per cui si sale al passo dello stelvio pieni ma non sazi dell'incantevole spettacolo e quasi ebri del pensiero della vittoria discendemmo abbalsi nella valle del frodolfo rassentando quella vedretta e quella frana così nefaste ci pareva impossibile che ieri ci avessero dato tanto da fare ma altro è il mare che dorme a guisa di placida laguna altro è il mare furioso sotto gli impedi della tempesta se vi troverete un giorno a santa caterina non lasciate divalicare rose brù scegliete peraltro una bella giornata a tempo sereno quel passaggio non è che una generosa partita di piacere a cui può pigliar parte qualunque più mediocre salitor di montagne ma se il tempo è brutto soprattutto se è turbinoso può esporre a seri pericoli anche l'alpigiano più sperimentato tuttavia anche col bel tempo la prudenza ci vuol sempre era pure bel tempo pochi giorni dopo quando la vidi abbastanza brutta in un certo bosco in un bosco dove come racconta racconta gridarono tutti insieme i nipoti eh sì a far lungo bene vi racconterò un'altra volta questa spiacevole avventura fenomeno si si Grazie a tutti.